appena entrati nel vecchio paese sopra a lisciano dove i residenti vivevano non saprei dire se forse fino a un secolo fa ci sono i vigoli del paesino e 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 tutti i cartelli che indicano che gli edifici sono assolutamente pericolanti attraverso i cartelli è stato tutto il paese sovrallisciano che guardava ovviamente la valle qui c'è una sorta di ingresso al paese di ballatoio quasi volesse fungere proprio da una piazza di ingresso una sorta di piazza di ingresso appunto al paese si arriva con i muri con gli animali e che dominava guardava proprio lisciano in basso e tutta riedi come si vedrà una volta ovviamente è tutto disabilato tutto abbandonato però è suggestivo immaginare una modalità di vita che a ripensarla oggi insomma sarebbe sarebbe a dir poco complicato lisciano riedi un paese che non c'è più non è vero Grazie.